buonasera slo smokers e bentornati nel nostro canale oggi voglio fumare e parlarvi di uno dei miei sigari preferiti in assoluto ovvero l'aceo upman sir whiston grazie a tutti grazie a tutti bene partiamo subito come vedete sono già a buon punto perché ho voluto godere con calma di buona parte del sigaro perché sono arrivato praticamente alla metà prima di iniziare a registrare e parlarvene dunque partiamo dalle informazioni basilari si tratta di un julietta numero 2 quindi ricordiamo le sue dimensioni sono 47 di diametro per 178 di largo cioè la lunghezza come molti altri sigari di cui abbiamo parlato come il romeo julietta churchill o appunto il recente video che abbiamo pubblicato quindi sto parlando del che dorsè clemenceau ma veniamo all'aspetto del sigaro il sigaro è ben costruito il riempimento è uniforme non presenta abballamenti non sono presenti nodi la capa è di un colorado con riflessi bruni e dorati al tatto è molto setoso l'umidità di questo sigaro è intorno al 62 per cento quindi perfetto per essere fumato il cabinet a cugno 2014 è una delle scatole che ho comprato proprio a cuba e nessuno di questi sigari ripeto nessuno all'interno di questo cabinet mi ha deluso sono tutti perfetti per costruzione e per gamma aromatica ma veniamo proprio all'analisi aromatica a crudo i sentori presenti sono quelli del miele del fieno aromi erbacei e di buon legno una volta acceso gli aromi vengono confermati si sente una nota legnosa molto presente un legno dolce un legno giovane e questo fieno e il buon tabacco e anche il miele pervadono tutto il nostro palato il nostro naso in bocca al sigaro è dolce questo è il suo sapore il suo gusto prevalente il tiraggio procede benissimo la cenere molto chiara e di tipo lamellare molto friabile infatti mi è già cascata in un'occasione verso metà sigaro ma parliamo brevemente di Ache Uppmann Ache Uppmann è uno dei brand più antichi nel portafoglio dei sigari cubani è stata fondata nel 1844 il suo fondatore Herman Dietrich Uppmann è stato un banchiere di una famiglia appunto di commercianti proveniente dalla Germania ha trasferitosi poi a Cuba per iniziare la produzione e la vendita di questi sigari si tratta di sigari molto prestigiosi che fino alla metà del novecento del secolo scorso sono stati tra i sigari più esportati più apprezzati da tutti i fumatori del mondo l'America era uno dei più grandi importatori insieme all'Inghilterra la Spagna la Danimarca la Germania ovviamente e la Francia una piccola curiosità qualcuno crede che il cognome originale Uppmann abbia un H davanti in verità il brand ha il nome H.Uppmann che sta appunto per il nome e il cognome e una ricerca ha dimostrato che il cognome originale della famiglia fosse proprio Uppmann senza H a livello globale la marca Uppmann è una delle marche più premiate quelle che vedete nel suo logo tutte quelle medaglie sono frutto di riconoscimenti che gli sono stati riconosciuti dal 1855 al 1907 esistevano queste fiere espositive riguardanti i prodotti in questo caso legati al fumo lento dove veniva premiato il miglior tabacco il miglior prodotto e H.Uppmann ha vinto ben più di dieci medaglie un'altra curiosità di questo sigaro come di molti altri sighieri prestigiosi è stata realizzata una Gran Reserva come potete ricordare nel 2009 è stata rilasciata la prima Gran Reserva ovvero il Coiba Siglo VI e così via per un totale di 7 sigari presentati e poi rilasciati nel mercato l'ultimo dei quali è il Partagas E numero 2 che spero arriverà molto presto ma il quinto appunto di questa serie di 7 Gran Reserva è stato proprio il St. Winston rilasciato presentato nel 2017 disponibile a metà del 2018 e si rifaceva la cosecia cioè a raccolto 2011 la confezione di questi Gran Reserva è come sempre prestigiosa una scatola allaccata di nero come ormai siamo abituati a vedere sono stati prodotti 5000 cabinet con un totale di 15 sigari all'interno ma ritorniamo a questo sigaro che non è un Gran Reserva non ho avuto il coraggio di accenderlo ma sto fumando comunque il sigaro del 2014 quindi con 7 anni sulle spalle l'equilibrio e gli aromi sono così rotondi e così piacevoli che mi fanno capire quanto io ami questa marca la marca è caratterizzata da un territorio del sabor che va da leggero a medio e questo sigaro rispetta in pieno queste caratteristiche questo è proprio uno dei miei sigari preferiti avete presente quando cercate un sigaro sicuro uno di quei porti dove approdare sapete che non vi deluderà un prodotto che conoscete bene e dove volete andare a cascare quando volete proprio compiacervi ecco per me il Sir Winston di Ace Human è uno di questi sigari non è di certo un sigaro per sperimentazioni ma è un sigaro da scoprire e riscoprire ogni volta e ogni volta non mi delude la sua continuità e la sua continuità produttiva sono eccezionali non è facile da reperire si tratta di sigari che vengono prodotti non così spesso proprio perché richiede tabacchi di ottima qualità ma torniamo a questo esemplare intanto l'evoluzione aromatica prende corpo man mano che va avanti il sigaro io adesso qui come ho detto sono a metà gli aromi si evolvono il legno si fa sempre più presente la nota dolce e la dolcezza in bocca sono sempre presenti il fieno va via via fievolendosi ma le note erbacee comunque rimangono questo sigaro è un sigaro dolce che ben si abbina con moltissime bevande io ad esempio ho scelto di berci insieme un vino rosso italiano, un Brunello di Montalcino anche lui con qualche anno sulle spalle e devo dire che la nota legnosa che accomuna questi due sigari si sposa perfettamente si tratta di un abbinamento per similitudine la corposità del vino non va a coprire il sigaro nonostante non sia caratterizzato da una grande forza e creano un complesso aromatico in bocca molto piacevole perfetto per una giornata piovosa in cui uno si vuole rilassare ma vediamo come si concluderà questo sigaro e se rispetterà tutte le aspettative vorrei concludere questa degustazione con la valutazione finale di questo sigaro come avete capito ho una particolare passione per i sigari di Ace Upman e nello specifico del Sir Winston il sigaro si conferma essere un sigaro di ottima fattura con gli aromi complessi e ben amalgamati gli aromi che ho detto all'inizio sono presenti per tutta la fumata e verso la metà si riescono a sentire nuovi aromi che escono fuori ad esempio quelli della frutta secca il legno si fa sempre più presente, gli aromi erbacei vanno via via affievolendosi rimanendo comunque sottesi come fondo di questa fumata è un sigaro molto complesso che richiede una certa esperienza di fumata non tanto per una questione meccanica, non richiede accensioni, non richiede particolari attenzioni visto che la combustione è veramente ottimale, però è un sigaro che richiede un'attenzione che gli esperti hanno e che magari i novizi di questo mondo potrebbero non avere ancora beh non mi rimane altro che ringraziarvi, salutarvi, vi invito a sottoscrivere il nostro canale a mettere mi piace e pigiare sulla campanella per ricordarvi tutti i nuovi video e per essere notificati dell'uscita dei nostri nuovi video quindi vi auguro buone fumate, buona serata e al prossimo video, grazie